Un'inversione di marcia, questo Molise, 300 mila molisani saranno rappresentati con persone che hanno capacità politica, capacità imprenditoriare, con credenza, buonsenso, responsabilità, cosa che non c'è stata nei rappresentanti degli ultimi 5 anni. I quattro parlamentari di 5 Stelle, i rappresentanti di Leo, pur avendo i ministri a loro disposizione che facciano riferimento a loro, non hanno portato nessun risultato in questa regione. Vogliamo invertire la rotta, attraverso un decreto Molise vogliamo realizzare le cose che stiamo raccontando e che stiamo dicendo in questa campagna elettorale. Salute, sanità, dare forza al sistema sanitario, rilanciare gli ospedali, rilanciare una sanità di prossimità, ammodernare le infrastrutture viarie, fare il collegamento A1-A14, che sia superstrada o autostrada a poco importanza, ma farla. A modernare le strade, le aree interne, tutte le strade provinciali e soprattutto rilanciare anche il settore imprenditoriale, le aree industriali per dare prospettive occupazionali.